Rallenta la crescita per le imprese del Veneto secondo lo studio trimestrale realizzato da Union Camere. Da gennaio a marzo 2018 la produzione industriale è comunque aumentata del 3,2% rispetto allo scorso anno, ma si registra una stagnazione rispetto all'ultimo trimestre 2017. La variazione destagionalizzata è di meno 0,1%. Anche ordinativi e fatturato estero mostrano questo rallentamento. Emerge soprattutto nel fatturato estero un rallentamento più consistente. Uno stop che gli analisti attribuiscono all'incertezza politica del periodo preelettorale e di quello immediatamente successivo al voto del 4 marzo. Ma ora che si sta arrivando all'insediamento del governo di Lega e 5 Stelle la preoccupazione per gli annunci di misure protezioniste che potrebbero da un lato provocare un aumento dei costi di produzione, dall'altro un calo della domanda dall'estero a causa di possibili ritorsioni su eventuali dazzi. Noi abbiamo un manifatturiero altamente internazionalizzato. Abbiamo una prospettiva di oltre 200 milioni di nuove benestanti nel mondo che chiedono Made in Italy. È chiaro che se abbiamo strumenti che incominciano a aprire la logica delle ritorsioni non possiamo che farci del male. L'appello del Presidente delle Camere di Commercio Veneti al nuovo governo è di chiarire il prima possibile le proprie intenzioni in materia di economia. Se ci sono investimenti li si fanno in stabilità. Quando c'è in stabilità si inizia un po' a dire chiudiamo questo stabilimento, non blocchiamo queste opere, questo crea problemi. Lo vediamo nella borsa, lo vediamo anche le reazioni che ci sono.